Funciona, pronto, due, tre, stiamo per finire. Quando si sarà ben amalgamato lo assaggio. Infatti manca molto sale. Via! Raus! La faccio io! Nona! X! Anche un paio d'ore bastano. Non sono capace di fare così. Grazie pubblico, vi starò simpatica. Oggi, oi! Oggi, oi! Oggi, oi! Oggi, oi! Oggi, oi!